Follow the money, segue il denaro. L'anglicismo è, curiosamente, sia il faro guida della grande criminalità che il metodo investigativo più efficace scelto da chi punta a contrastarla. Che per ricostruire i business mafiosi occorra seguire i soldi lo sapeva bene anche Giovanni Falcone. Nel suo piccolo Pescara è da tempo sotto l'occhio attento delle forze dell'ordine e investigative, anche se occorre ribadirlo, la città non è ancora l'Eden delle mafie, ma bisogna lavorare affinché non lo diventi. I fatti del 1 agosto 2022, l'omicidio di Walter Albi e il tentato omicidio di Luca Cavallito, che hanno portato a recente arresto dei presunti killer e mandante Cosimo Nobile e Natale Ursino, per gli investigatori non sono dunque semplici punti di partenza, ma a stazioni intermedie di un sistema di prevenzione già attivo e strutturato che quel crimine, efferato, ha costretto a rafforzare. Come? Seguendo il denaro, appunto. È questa la strada citata dal prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, nell'intervista concessa al termine dell'odierna riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Seguire i grandi flussi finanziari e immobiliari, i movimenti di denaro più ingenti, i trasferimenti di attività commerciali sospetti, è una tappa imprescindibile delle indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata, drangheta e non solo, sull'appetibile e dinamico territorio pescarese. Rinnovare il mio grazie, il mio apprezzamento per il lavoro svolto con discrezione e professionalità alla Procura della Repubblica, alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia che hanno collaborato in relazione all'evento che c'è stato il primo agosto. Abbiamo messo a punto di ulteriori iniziative per rafforzare ancora l'attività di prevenzione e di contrasto nei confronti dell'infiltrazione. Qui abbiamo fatto un'analisi complessiva della situazione della sicurezza pescara che complessivamente, come abbiamo detto anche in altre occasioni, denuta un andamento in diminuzione della dirittuosità, soprattutto ad esempio dei reati che più colpiscono e più odiosi i cittadini come i furti e le rapine in abitazione. Appena arrivato qui ho già fatto delle interdittive antimafia, quindi bisogna mantenere alta l'attenzione. Qualche giorno fa una di queste interdittive ha avuto anche una conferma in sede giurisprudenziale, quindi lavoriamo in questa direzione senza trascurare nessun aspetto, senza allarmirvi, ma senza sottovalutare. Che tipo di misure di potenziamento avete affrontato oggi? Delle misure di prevenzione amministrativa, in modo poi da poterle portare sul tavolo dell'autorità giudiziale qualora vengono aspetti interessanti. Ci sono più tavoli che lavorano da appena sono arrivato qui, sul monitoraggio di esercizi commerciali, sui trasferimenti di esercizi commerciali, sul monitoraggio dei trasferimenti immobiliari superiore a 300 mila euro e sul PNR, su diverse tipologie di attività. Chiaramente questi monitoraggi hanno prodotto delle interdittive antimafia, più altri elementi sui quali stiamo lavorando. Grazie. Grazie. Grazie.